Sono passati 51 anni dall'allunaggio, una delle opere delle imprese più importanti dell'intera storia dell'umanità soprattutto della storia moderna e del Novecento che ancora oggi la ricordiamo come un'impresa mastodontica frutto di tanti 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 sacrifici e di una lotta funesta tra Unione Sovietica e Stati Uniti che nella Guerra Fredda si scontrarono in vari campi tra i molti la rincorsa allo spazio vediamo che l'Unione Sovietica all'inizio era quasi in vantaggio sull'America infatti il primo uomo ad andare a orbitare nello spazio è stato proprio un russo ma poi gli Stati Uniti con grande cuore riescono a far mettere il primo piede a un uomo, Neil Armstrong, sulla Luna un'impresa magnifica e non ci crederete ma in tutto ciò c'è anche un pizzico d'Italia e soprattutto di un uomo di origini lucane stiamo parlando di Rocco Petrone la sua è una storia magnifica, è una storia che dovremmo conoscere tutti e molto molto affascinante tutto iniziò nel 1926 alla sua nascita lui nasce ad Amsterdam, non la capitale olandese ma una piccola cittadina dello stato di New York dove i genitori Antonio e Teresa si trasferirono pochi anni prima sfortunatamente a sei mesi il Antonio, il padre, in un grave incidente sul posto di lavoro muore quindi la mamma deve crescere i suoi figli da sola e gli trasmetterà un grande spirito di sacrificio e di rivalza che Rocco metterà in pratica, in atto, in ogni cosa lui vincerà e otterrà diverse borse di studio che lo porteranno poi alla NASA e a realizzare i suoi sogni infatti proprio il sogno americano qui è un esempio brillante di tutto ciò lui si trovò ad andare come scuola superiore alla Wilbur Lynch High School e lì si diplomò con ottimi voti e ovviamente rispetto agli altri alunni aveva grandi potenzialità soprattutto nel calcolo matematico infatti riusciva a risolvere delle moltiplicazioni a quattro cifre con la mente senza molti problemi quindi ottenne delle borse di studio e andò per primo, prima di laurearsi in ingegneria la MIT, una delle massime università e istituti di tecnologia degli Stati Uniti andò anche a un istituto, a un'accademia l'Accademia di West Point diciamo, era un'accademia militare anch'essa molto importante lui però ripudiava la guerra la odiava e quindi il suo futuro non sarebbe mai stato in campo militare anche se l'America dovette affrontare poi la seconda guerra mondiale infatti lui non partecipò alla guerra ma nel 46 venne inviato in Germania per dare assistenza ai rifugiati di guerra e proprio in quell'occasione, siamo nel 1946 andrà per la prima volta e andrà nel suo paese per incontrare la nonna per poi ritornare in America quindi c'è stato un bellissimo contatto con le sue origini quindi arriva il grande capitolo quando arriva finalmente a lavorare alla NASA gli danno subito un ruolo ingegneristico abbastanza importante infatti lui dovrà occuparsi della costruzione della progettazione delle rampe di lancio dei vari missili e lavorerà anche a stretto contatto nella costruzione dei missili ad esempio in tutte le missioni del Saturno fino a Saturno 5 delle missioni molto molto importante dove lui ebbe un ruolo molto molto importante ecco poi anche nella progettazione dello stesso Apollo ebbe una grandissima idea ovvero quello di assembrarlo in lunghezza e quindi direttamente sulla base dal basso verso l'alto è stata un'idea brillante che grazie alla quale sono riusciti a costruire questo importantissimo razzo alto 100 metri con un diametro di 10 metri pesante migliaia e migliaia di tonnellate ed è stata sicuramente un'ottima idea però prima degli anni 60 pensare alla Luna non era nemmeno nei loro pensieri era inimmaginabile la tecnologia non poteva arrivarci era forse fra 30-40 anni solo nei film eppure ce la fece e cosa portò a questo? come già detto ebbe molta importanza e spronò molto la lotta e la supremazia nello spazio rispetto all'Unione Sovietica e grazie nel 1961 all'elezione di Kennedy tutto questo sembrava quasi realizzabile perché poi ricordiamo tutti il famoso discorso di Kennedy al congresso dove annuggiava che in 10 anni sarebbero arrivati sulla Luna un annuncio strepitoso e infatti poi vengono investiti milioni e milioni di dollari alla NASA e a questo progetto tutte le risorse vennero spese unicamente per questo oltre anche alle risorse puramente militari perché ricordiamo che si era finita la seconda guerra mondiale ma dopo questa c'erano stati grandi conflitti come la guerra di Corea oppure la stessa guerra in Vietnam che durerà fino a metà degli anni 70 ecco ma decisero comunque di investire tutto questo maggior parte del danaro proprio su questo progetto è stata un'epopea un'odissea arrivarci ma ce l'hanno fatta come tu altrimenti non staremmo qui a parlarne e dagli anni 60 fino all'allunaggio c'è anche l'ascesa di Rocco Petrone che ha scalato piano 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 le vette fino a diventare il direttore generale di tutto colui che ha dato ha detto go quel 16 luglio pensate alle 9 del mattino quando parti l'Apollo 11 per poi arrivare il 20 luglio del 1969 come tutti sappiamo un evento che tende incollati milioni di persone allo schermo e che consacro senza ombra di dubbio Rocco Petrone che è stato comunque una grandissima figura e lui venne anche incontrato pensate un po' da Piero Angela in un aneddoto che lui ha raccontato molto spesso lui nel 67 si recò alla base della NASA e andò a vedere e notò che tra i dirigenti c'era un nome italiano quindi prese appuntamento per intervistarlo e lui gli disse proprio in dialetto stretto che era di Sasso di Cassalda della della Basilicata e quindi in Italia poi tutti impazziti lui venne era quasi nella sua terra visto come un eroe grazie poi all'intervista che andò andò in onda e quindi questo è un bellissimo aneddoto che poi vi lascio il video originale in descrizione e quindi cosa possiamo imparare da questa storia che tutti i sogni sono realizzabili se noi vogliamo e soprattutto ci fa capire quanto l'America a volte sia anche un paese molto un paese molto meritocratico e quindi dove tutti i sogni si possono realizzare infatti come viene definito il sogno americano e quindi dobbiamo riflettere e credere sempre nei nostri sogni perché come vediamo indipendemente dalle nostre origini possiamo arrivare dappertutto quindi per questo video è tutto spero che questa storia vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata grazie